La situazione non cambia per la NPC che continua ad allenarsi al Palazzo Journal secondo termini ancora non definiti. La proposta del Presidente Cattani era in particolare quella di definire il costo e le condizioni in maniera più precisa e che garantisse anche tempi più lunghi di gestione. L'autorizzazione per l'utilizzo infatti ha tempo determinato e si rinnova ogni mese, un tempo troppo breve per poter definire e pianificare l'attività di un'azienda quale quella cestissica e reatina. Intanto dal Comune fanno sapere che è stato predisposta una convenzione tra lo stesso ente e la provincia sulla base di un accordo per il quale il Comune concederà alcune ore della mattina del Palacordoni per l'utilizzo scolastico, l'utilizzo gestito dalla provincia che a sua volta darà, secondo un equo scambio delle ore, la disponibilità del Palazzo Journal. Adesso è necessario avere un po' di pazienza per arrivare ad un accordo definitivo, ha spiegato l'assessore Mezzetti. Noi tutto quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Ora si attende il prossimo incontro.